Tutorial and support o-up, esercizio propedeutico per l'o-up, skill di tirata del calisthenics, simula molto efficacemente la versione finale. I muscoli coinvolti sono principalmente il gran dorsale, deltoide e tricipite. L'esercizio prevede l'ausilio di una sbarra o anello. Afferrare il supporto al centro in presa prona con pollice in opposizione e l'altra mano su spalla, bicipite o tricipite a seconda del proprio livello. Trazionare cercando di localizzare la forza verso la mano che afferra la sbarra, l'altro braccio serve a mantenere l'equilibrio ed evitare fastidiose rotazioni del busto. Cercare di superare con il mento il supporto durante l'esecuzione le scapole sono adotte depresse. Più la mano di supporto è posizionata in basso o minore sarà l'assistenza fornita. Suo avambraccio sarà quindi più facile che sulla spalla. In caso di difficoltà è possibile effettuare solo delle eccentriche partendo sempre da mento sopra la sbarra. Ispirare nella fase discendente ed ispirare nella fase di risavita.